E' terminato senza reti e con un secco 0-0 il 101esimo derby allo Stadio Benelli tra Vis Pesaro e Alma Juventus Fano. Un punto a testa per ogni squadra, ma nessuna rete in porta per il match tra le due realtà locali, ad eccezione del gol segnato all'84esimo da Carpani del Fano che però è stato annullato. Delusione quindi per entrambe le società, con Mr. Bedetti che sostituiva nella panchina vissina lo squalificato di Donato. Al termine dell'incontro un gruppo di tifosi biancorossi ha dato vita ad una contestazione fuori dal Benelli per manifestare contro il risultato portato a casa dalla Vis. Sicuramente questo non è l'atteggiamento con cui affrontare un derby. Stasera quando siamo a casa tutti quanti tranquilli e sereni ci dobbiamo fare un bel esame di coscienza tutti quanti, dallo staff tecnico ai giocatori, perché oggi ho visto in campo una Vis senza sangue, quindi non riesco a definire se è un punto guadagnato o un punto perso. L'unica cosa che mi porta a casa è che da quando siamo arrivati non abbiamo preso gol, oggi, però è magra. La partita ha detto che se c'era una squadra che meritava di vincere quella era il Fano. Dispiace, dispiace tanto, purtroppo è un periodo in cui facciamo delle cose che non esistono, purtroppo ci capitano, dobbiamo lavorare e basta. Penso che il Fano ha tenuto il campo per 90 minuti. Ha attaccato, li abbiamo messi sempre lì e poi dispiace anche per il gol finale. Nessun festeggiamento anche in casa Carpegna Prosciutto Basket, che pur non conquistando i due punti nella trasferta di Treviso, resta quinta in classifica a quota 10. Nella decima giornata di Serie A, la vittoria è andata ai padroni di casa della De Longhi per 91-81. Vorrei fare complimenti a Treviso per una vittoria strameritata, onestamente. Noi siamo arrivati qua, come ho detto, con qualcuno molto indietro, come Delfino non si è allenato quasi dieci giorni bene, come Massenat che si è scavigliato e si è visto che è molto indietro. Giocatori sicuramente importanti per noi. Se succede con Ariel come è successo primo tempo, che ha sbagliato tutte le sue scelte, o con Zanetti che è stato tutte le sue scelte, è difficile aspettare vincere. Prima di questa partita siamo stati miglior seconda squadra in nostro campionato dal punto di vista difesa. Abbiamo subito 47 punti in primo tempo, più di metà dopo contropiede e ribalzo in attacco. In nostra preparazione l'obiettivo primo è stato giocare con loro a metà campo e controllare il ribalzo difensivo. Purtroppo non siamo riusciti, mi dispiace, ma ho visto la squadra distratta, non concentrata rispetto alle ultime partite. Può essere che tutto l'ambiente dopo quattro vittorie in fila, dopo anni e anni, sia addormentato, ma è mia colpa. Grazie.